Dueee! Pasta il tre! Dueee! Dueee! Buongiorno, buongiorno! Lui è stracornuto Lui è corruto! Il piano è una poca piazza! Noi non vedi così! Bis meaningful! Capire il progetto! Viva il progetto! Ho! Viva il progetto! Quasi, sulla tua piazza! Ho! Quo! Quo! come dai no tu역 ma elu tu belong ma ok ok quel tu tu ma è un po' più peggiorno. Lo che facciamo, è fare la nostra qualità in una verunftica forma. Ci facciamo per gli stessi. Ci facciamo, che ci sono alcune problematiche come possibile. E questo è una delle rispondizioni. Scuola. Non scuola. Perché di una stessa? Facciamo sempre di uno stessa. Perché non è stato il ragione. Però quando c'è una pistola o con Waffen, ciò che è alla bianca. Ciò che è sempre di una banda. Quando sei a la cassa, dà pensare non più più. Non pensi solo solo per quanto riguarda l'Italia, o se stai da tu l'Italia. Abbiamo anche la gruppa Ultras Basel. Abbiamo una gruppa che fanno in sache Fussball per la FZB. Abbiamo una organizzata gruppe. Abbiamo molto insieme. Abbiamo anche molto per la FZB. Io sono Detektivo del Vandringsdienste della Polizia Basel-Stadt. Io sono l'obiettivo per l'Holiganismo. Es gibt immer wieder Jugendliche, che non per l'Aggiungere, ma in l'Aggiungere, in l'Aggiungere, in l'Aggiungere, in l'Anonimità, in l'Aggiungere, in l'Aggiungere. Wir können rein. Wir dürfen rein. Sì, Sì, offiziell fanno da 100 Jahre FZB. Sì. Sì, Sì. 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 Sì, Sì, Sì. 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 Il suo reino! Il suo reino! Accentare! 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 Viva! Il suo reino! Il suo reino! Il suo reino delle donne e sono riconoscendo ad un'azienda. Il suo reino, che pensano che sia un altra fin, ma non sono un'azienda. e ci sono persone che hanno ancora interessato come fessi come fessi ma non è proprio proprio ma sono un po' di sce ma sono un po' di sce e ho sentito e sono persone che sono stati spiegelati non credo che siamo stati siamo stati a basel la città è ora la città è ora è stato un po' di sce La Heligonsa è una cosa. La Stadion ha fatto un Stadion, come si insieme una bandamassi di sclare. E ci sono un problema. E ci sono un problema. E ci sono un problema. Ci sono un problema. Ci ha detto che ci sono un problema. Dieter Schaupe li li rinchi. Ci sono stati 20 le tagegati e sono stati. Questo è stato un motivo per cui abbiamo avuto Starmverbot, perché abbiamo avuto un raggede. Abbiamo visto che oggi i vecchi fanno verbranci. Abbiamo visto che alcuni persone sui 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 sui. Ci sono stati anche noi, perché abbiamo avuto un soggetto che oggi sono stati. quindi si dice che il diritto di schaub, si dice che il diritto è tutto il discrimine Aspetta stai con il diritto? Beh, no, non vabbiamo, non vabbiamo Ho tutto quello che ho fatto da domani, non vabbiamo Ho tutto il diritto? Ho tutti i'aggiati! Ho tutti i'aggiatori! Voi l'Idiotto! Alla prossima! con le persone che fanno anche con questi fissbol. Ci sono anche qualcosa di grillare, o cosa facciamo? In ogni settimana non ha molto tempo. In ogni settimana si fanno con i colleghi, o qualcosa di trinco. In ogni settimana, quando non c'è fissbol, si fanno insieme. Guarda i bulli, si fanno fuori, si fanno fuori, si fanno fuori. Volga, volga! Choliganismos è un spiel, oi? È un spiel! È un ruolo di spiel! Tutti che sanno in qualche volta, o anche al lavoro, Non posso lasciarmi sempre a questo weekende, quando fanno in un fissballmattico. Da treffi man si con gli altri. E poi è libero. E poi si senti bene bene. È come una felicità. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Und wie das auch schon gesagt worden ist in dieser Diskussion, der Hulligan hat sich entwickelt. Er ist vom Hölenbewohner zum gepflegten Jugendlicher geworden. Er ist im Prinzip so alt. Ja. Das Ziel ist auch geworden, unauffällig rumlaufen. Man läuft heutzutage nicht mehr bei der Jeanshauten, die alles Patches drauf hat von jedem Club, oder? Wir können gepflegt noch immer hin. Wir fallen nicht auf. Und plötzlich knallt es. Knallt es? Wer hat mir angezündet, oder weiss ich was. Irgendwie gerade der Moment vor, der weiss jetzt genau, es geht los. Nächste fünf Sekunden. Es ist einfach ein total beräuschender Gefühl. Ein totaler Adrenalinkick. Ein totaler Adrenalinkick. o mixiamo iscriviti con lui chung Si, devi provare, devi provare, devi farlo. Per i tiri, per gli stai, per gli stai erbili. E così è per noi. No, no, no. Se lo sanno qui, da una situazione è un po' sorgere, perché non è nemmeno sorgere perché non è nessun po' sorgere, se non può essere un po' sorgere, se lo sorgere un po' sorgeremo, se lo lasciare con un po' entkosse. Se che ho fatto? Ho 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 mai fatto il mi fai in un po' sorgeremo. Come si è? Come si è giocato. Come si che faccio? Io ho un'altra. Io ho anche il posto di Strasse con persone. Ho scato di primo tivo. Ho scato di me un'fingerito. Ho scato di primo tivo. Ho scato di primo tivo. Ho scato di Technico. Ho scato di primo tivo. Ho scato di effettivo. Ho scato di flossi, ho scato di tutto. Ma va fare un'etto e non ricorda che se tu al tuo tuo il tuo. Quindi ci sorti e pensa che si può sentire. Ed a quella cosa ti ha scato? In un corpo. E un altro? Tu ti ha scato. E tu ti fatto continua? Perché ho fatto con l'Hand Minima. Il mio nome è René Lazardès, sono profi ringer, ho già 40 anni, quindi ho fatto un po' di 11'000 che ho fatto un campo in mia carriera. Io ho passato, Bliéssimo! Il suo гоso vergnügen, quando si sono in sala e a la gente controllerà, quando si realizzano, quando si che era ora passano la sera per 2 ore ore ma hanno un pezzo ma non ho ma si conoscevano, che potremmo bene, e adesso stanno schreando. E' una brutale, ma è una controllierte Brutalità. E' una cosa sempre so. E quando io ando, adesso sono andato, adesso flutte l'altro. L'altro è il mio amore. Per questo brillo si, per me non. Per questo brillo si. Per questo brillo si flutte, e non è ancora più alto, e poffi, e poi si flutte l'altro e si flutte, e poi si flutte, e poi si flutte l'altro. E' un mio amore. Ma così dov'è essere mai, non è mai, mai. E se io ando, in questo momento, non, io devo flutte. So, mi devo flutte, per questo flutte, quindi sono loro felici. E adesso sono felice! Io sono quello, quello che ha questo, quello che ha ha. Il suo chef o qualcuno. O qualcuno che la Monique vermieta. O qualcuno che ha ha. E questo lo vedo in me. E questo lo potrei fare con questo Hund. E adesso flutte per me. E adesso sono felice. E questo è controllato. E poi in I Berenice «Caliu» Ze l'ammate긴ki, due giorni. Per onde randona sardeschi. «Eoffre'e un'enierungs 제�venza. Es vieneira dei quelli importanti. Un'altra cosa c'estrega di attendere. è e quando qualcosa passi cosa passa? a di questo si ha sempre di pensare e ti puoi ti puoi stai davvero se stai con la boxe che è il caigli che ha il cuore il cosserrand e stai è chiaro questo è chiaro ma ciò che si trova sempre in questo caso, Questo è il fatto. Ma devo dire che è così, che anche nel boxsport, che anche nel boxsport, che anche nel boxsport, che anche nel boxsport, che anche sempre qualcosa può passare. Io ho capito, ma nel boxsport è in un ring, tu hai un ringrichter che dice stop, break... E' una altra domanda, che fai da qui, che in cui fai da con stai rum, le che fai da ruzie a di stai rum, e le stai riempi e si fai da? E' questo è davvero un vero, è davvero anche molto primitivo. I ragazzi, che in stai riempi i ragazzi, che la loro per fare attraverso il ragazzi, non ci sanno di Klamato, o cosa ne solle, ci sanno la sua ruola. Ci sono andati, e non hanno aggressione. Ci sono andati da alcuni di persone, che non solle sapere che sono sicuramente più erbili. E si trattano a questi due persone. Ci sono cose che sono sempre più scensi. Ci sono anche anche nessuna bocca. Ci sono sempre in i sui schioli, perché le media non vedono, che differenziai e che ci sono le due le due le mie. ... ... ... Come inizia, i giusti di fai, sottotitoli, a me ha. Per il giusto è giustare la regola, per chi si muoveva e il gruppo umbocca e si muoveva, che si muoveva. Per noi non è inizia, ma anche inizia, il rapporto non più inizia. Perché la passavamo proprio solo, ma ha detto che ogni anno che ho ricevuto e che ho sentito, perché ho fatto un po' di stagione, mi ho fatto anche un po' di stagione, dove sono già già parlato da ciò che Grazie a tutti i ragazzi. Sì, avete più più angstia? Quando ero lì, poi ero venato in un po' di un po' di uno spazio in un po' di una stessa, dove è stato venuto a tutti i ghibella e sono stati di Schweizer. E io ero venuto a tutti i loro non sono venuto venuto. Cos'è di tutto! E io ero venuto 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 venuto. E io ero venuto 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 venuto. Questo è stato fatto per il suo corpo. Io ero? Sì! Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.